Il progetto di cui vi abbiamo parlato oggi, la produzione di oli vegetali da colture dedicate per la produzione di energia, rientra in un progetto ben più ampio, quello del Tecnopolo per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, che è in fase di realizzazione in via Saragat a Ferrara e che ha come obiettivo quello di promuovere un'economia basata sull'innovazione e sulla conoscenza, per favorire l'evoluzione dei sistemi produttivi verso l'alta tecnologia. Ce ne parla il presidente di Parc Agri, Davide Nardini. Il primo passo verso la creazione del Tecnopolo che avverrà, i lavori inizieranno a settembre, finiranno entro la metà del 2012 e quindi potrà iniziare, soprattutto in questo caso legandolo all'agroambiente, una struttura d'eccellenza piuttosto importante. Il tema qual è, tra l'altro, ancora più importante? Che come sempre la ricerca a volte è molto avulsa dalla produzione, è molto avulso dal sistema delle imprese. Noi in questo modo invece abbiamo creato quel trasferimento tecnologico, cioè di innovazione, di processo e di prodotto, che l'impresa vuole, nel senso che la ricerca e il convegno che stiamo presentando oggi è quello che l'impresa ci ha chiesto e noi a nome dell'impresa facciamo questa ricerca. Quindi in questo caso, ad esempio, noi potremmo creare, se la ricerca va a buon fine, come io credo e come io spero, potremmo creare un elemento di competitività per l'impresa ferraresi rispetto a tutto il resto, diciamo così, che lo circonda. Credo che sia estremamente importante in questo caso per quanto riguarda l'energia elettrica e ad impatto ambientale zero, perché se l'agricoltore che ha 15 ettari si fa il suo ettaro di colza, ha la sua macchinetta in cui trasforma questa colza in olio, la quale poi diventa energia elettrica, si fa autoconsumo, può avere energia elettrica per la propria stalla, può avere energia elettrica per il proprio mulino, può avere energia elettrica per la propria famiglia, per la propria azienda, in buona sostanza ad un costo nettamente inferiore a quello che pagherebbe la bolletta energetica complessiva. La provincia continuerà ad investire anche economicamente in questo progetto, quale sarà il suo ruolo in futuro? Abbiamo il 40% di capitale di Parca Agri, siamo quelli che mettono a disposizione oggi quasi oltre 2 milioni di euro per realizzare il tecnopolo, credo che più di così non ci si possa credere.